a che punto fai il generale? no, non posso riuscire a 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 riuscire come fai? come fai? due tirate una tirata una più cos'è? una cosa alla volta una tirata più normale e se vuoi farla insieme o non riesco? che sei stato dicendo? una volta una volta andavi da qui si si vismori son si su shouldn si udos no 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 Vabbè, vabbè Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Vai Grazie a tutti 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 Vai Vai Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ciao Grazie a tutti 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 E dopo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Io ho preso 2.5 2.5 è già Un'interrogazione da Medici Non è studiato Uno che ha interrogato quel primo E lì giustamente non lo studiato Uno che è studiato La Medici è di ripasso di tutto l'anno Che lei fa sempre Facciamo la pizza di Tommaso Per gusto Cosciutto e cacciò Pianco e pianco Per gusto E perdono, è il prosciutto per tua figlia? Io figlio è il prosciutto Si Sì Un po' più Ho risciuto Buoa Asciutto cacciosi Asciutto che ha scuola Pianco e ti rispettate Adesso Non c'è bisogno di usare tutte le volte. Così ce la facciamo a Tommaso. Eh, non vai! La sapevole! C'è 6 gradi? Siamo a te. 829 centri. 020 centri. App fishermen. Vezie a tutti. La storia è a teo torne Sì, non è vero. Tutto rosso Oh vecchio Ah ci prendiamo Ci prendiamo Come si riempiti A questo non è un po' Non è un po' Non ci prendiamo Perché ci sbattiamo Non ci prendiamo Ma non è un po' Non ci prendiamo Non ci prendiamo Ma non è un po' Buongiorno, buongiorno, buongiorno signor 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 Grazie a tutti. 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 . a tutti. 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 a tutti.